La fondazione Tercas, anche senza la banca Tercas, non è morta. Anzi, è più viva che mai. È quanto ha tenuto a sottolineare il presidente Mario Nuzzo nella giornata delle fondazioni. Nel 2014 ha investito sul territorio 5 milioni di euro e la stessa cifra è pronta a riversare anche nel 2015 per la promozione e lo sviluppo dell'arte degli altri settori nei quali la fondazione interviene. L'impegno della fondazione sul territorio rimane inalterato. Cercheremo anzi di privilegiare, come già abbiamo fatto fin dall'altro anno, l'area del sociale, perché in questo momento ci sembra quella più importante, ma continueremo la nostra attività nell'area della cultura secondo le modalità e le quantità anche degli anni precedenti. Sotto questo profilo noi non abbiamo problemi. prevediamo di poter continuare a investire in maniera significativa. Poco meno di 5 milioni, più o meno lo stesso per il 2015, poi faremo un nuovo piano triennale, ma insomma le quantità sono queste. Nuzzo è stato anche osservatore attento delle ultime evoluzioni di Banca Tercas, con la nuova proprietà, le nuove cariche, il nuovo management. Per la prima volta però lo ha fatto da osservatore esterno. La mia impressione è un'impressione sostanzialmente positiva, cioè mi sembra che la composizione del Consiglio d'Amministrazione dia evidenza di un grande impegno della popolare di Bari su Tercas. Come avete visto la maggior parte dei consiglieri sono dirigenti apicali, ma non solo dirigenti apicali in senso generico, responsabili degli specifici settori che sono particolarmente rilevanti per il rilancio di Tercas. Il presidente, che è l'unica persona che io conosco direttamente, cioè il professor Brancadoro, è un professore della nostra università. Io ho l'impressione che siano scelte che danno immediatamente evidenza all'intensità dell'impegno che Bari intende assumere per la ripresa delle attività della banca, secondo la sua tradizione, secondo quella che è stata la sua tradizione. D'altra parte questo mi sembra che sia emerso anche con grande chiarezza dalle dichiarazioni che ha fatto il presidente Iacobini della banca popolare di Bari. Il vostro disimpegno con Tercas resta tale? Allora, il nostro disimpegno con Tercas non è un disimpegno scelto, è un disimpegno di cui noi prendiamo atto, nel senso che non si sono create le condizioni perché noi potessimo partecipare alla ricapitalizzazione della banca. La nostra posizione rimane sempre la stessa. Noi riteniamo che Tercas sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell'economia del territorio. Lo sviluppo dell'economia del territorio rientra fra i fini propri della fondazione, quindi noi abbiamo un interesse certo a che la banca funzioni sul territorio e funzioni il meglio possibile.